Sinceramente ero indecisa se fare oppure no questo video, però poi ho deciso di farlo Ci vedremo il video più insoddisfacente del mondo. Eeeh ma che mira c'hai, c'è la mira di un ippopotamo che scoreggia No, 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 no La zuppa, prendi, ho pure... Dici, lo so, ma chi è questo qua? Ti mangi... solo perché mangi i stessi biscotti che mi mangio io, ti lascio un mi piace Che solda Questa così non va, così non va Tu non sai quante volte a me è successo Questo è il suo tizio di prima Il Pancakes, no, no, ho già capito quello che sta per succedere Ti provo, non farlo cadere, non farlo cadere, ok? Non far cadere, bravo, tienilo, tienilo Ok, ora mangi eeeh No, 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 no No, no, no No, 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 no